Nel nome dello slogan aiutaci ad aiutare, l'Avuls, associazione di venaria reale, ha svolto domenica 13 dicembre l'incontro celebrativo annuale. È una cosa che faccio non tanto per far vedere che noi siamo belli, forti e bravi, ma per farci conoscere dalla gente perché abbiamo bisogno di avere delle persone che vengono a darci una mano per fare quelle cose che la gente bisognosa ha proprio, gioco sulle parole, ha bisogno di noi. All'ospedale dove diamo un servizio agli ammalati e alla Casa Proteta dove facciamo compagnia agli ospiti della medesima. Cos'è l'Avuls e dove opera? È un'associazione di associazioni per il volontariato sociosanitario e con lo slogan aiutaci ad aiutare esprime la propria mission. L'associazione è nata nel febbraio del 2005 dopo aver operato per oltre 12 anni come nucleo cittadino. Presta la sua opera essenzialmente presso l'ospedale cittadino offrendo un rapporto umano, dialogo ed aiuto morale e pratico durante i pasti principali e la Casa Proteta con attività di sostegno agli anziani più bisognosi di cure ed attenzioni. Questo è il programma della festa. Durante la Santa Messa si è svolta la Santa Messa ufficiata da sua eminenza Monsignor Aldo Mangiano, Vescovo Emerito di Roraima, Brasile, e cantata dal coro lirico Puccini della Reale. Durante la celebrazione della Santa Messa vi è stato l'affidamento dell'Avuls a San Martino di Tours come protettore dell'associazione, la benedizione dell'Abaro e la contestuale nomina della madrina. Un folto numero di amici dell'Avuls ha riempito la chiesa, dimostrando l'attaccamento a questa associazione. Anche gli assessori Giulio Capozzolo, assessore alle politiche e sociali, e Vincenzo Russo, assessore alla partecipazione, hanno seguito la cerimonia. Al termine di questo momento intriso di sacralità, il gruppo dei partecipanti, sempre accompagnati dalla banda musicale, hanno raggiunto il ristorante La Cerea, dove dopo il pranzo svoltosi alle ore 13, il sindaco Nicola Pollari ha consegnato, affiancato dal presidente dell'Avuls, Giorgio Broglio, e dai componenti della giunta comunale presenti in sala, tra cui Salvino Ippolito, vice sindaco, e gli assessori già precedentemente citati, le pergamene di merito, in una giornata conclusasi con i favori degli associati, che si sono scambiati gli auguri per l'imminente Santo Natale. Informazioni sull'associazione, email bgiorgiobf.it, telefono 335 828 8077.